Sono saltati i supporti nel mercato delle criptovalute ed è profondo rosso, è profondo rosso dalla scorsa settimana con due crash abnormi in due giorni, ne abbiamo parlato nella live d'emergenza, la live speciale che abbiamo fatto il venerdì scorso, ma il ribasso è continuato, ha continuato ancora a scendere sia Bitcoin che Ethereum, sia tutte le cripto anche del settore DeFi con un flash crash di luna proprio in prossimità di quelli che erano i livelli importanti e il nostro indicatore, quello che vi sto mostrando da inizio anno per avere la lente di ingrandimento sopra, il total market cap del settore DeFi ha mollato il supporto ragazzi, indicando una inversione di trend ribassista nel medio periodo che dovrà essere confermata dopo una fase eventuale di recupero se ci riuscirà ad essere ragazzi. Allora, la settimana del 7 di febbraio oppure un intorno in quel livello, save the date ragazzi, segnatevi questa data perché potrebbe essere quella la data rilevante, la zona temporale rilevante che potrebbe dare fiato al mercato. Fino ad allora dobbiamo resistere, è questa la parola d'ordine soprattutto in quest'ultima settimana di gennaio perché un crash al di sotto degli attuali livelli di BTC, dei minimi raggiunti da BTC, sarebbe estremamente deleterio e lascerebbe spazio ad un ulteriore crash di oltre il 10% con un disastro che non oso immaginare sulla questione delle altcoin. Ma, ma, ma ragazzi, ci sono delle crypto che sono ancora forti, ovviamente hanno perso tantissimo, ma dalla struttura grafica, da quello che è l'analisi tecnica, oltre che dalla questione progetto che ormai sapete essere magari dei progetti molto accattivanti, insomma parlo di luna stessa, di Phantom, ragazzi di Atom, eccetera. Ma, oltre al progetto, anche la struttura di analisi tecnica di queste crypto non è ancora compromessa. E ce ne sono qualcuna, c'è qualcuna di queste crypto che è entrata, diciamo, nel mio, nella mia lente di ingrandimento, nelle mie watch list per un'eventuale fase di rimbalzo alla ripresa di questo ciclo semestrale, che tarda ad arrivare, soprattutto, è stato veramente complesso. Invece alcune crypto, ragazzi, addirittura hanno breccato i minimi del ciclo annuale, perciò non c'è scampo. Probabilmente scendono fino almeno a giugno prossimo. Allora, andiamo a fare il punto della situazione, vi faccio vedere tutta la questione qui, veramente, tutto rosso, 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 è un colore che amo, ragazzi, ma non vederlo in queste situazioni. Anche Ethereum, come vedete, ha iniziato la sua fase di forte ribasso, quindi in 7 day, in percentuale settimanale, meno 33%, contro il meno 22% di BTC. C'è questo, perché anche su questo caso, ragazzi, vi avevo detto più e più volte, c'è la questione legata al rimbalzo del Dominance. La Dominance doveva iniziare un nuovo ciclo annuale importante, lo sta iniziando in questi giorni, ancora non è confermata al 100%, però lo vediamo oggi in questo video nel grafico, e il ciclo della Dominance avrebbe impattato principalmente su Ethereum, Binance, e poi le altre cripto a seguire, quindi ADA, XRP, Solana e Terra. Ragazzi, quelle che sono le cripto più capitalizzate e che hanno un grande impatto sulla Dominance complessiva di BTC. C'è anche una serie di questioni da andare a vedere, Terra ha retto il primo colpo, vediamo se reggerà ancora, perché come vi dicevo nel video di venerdì è la coin più importante anche del settore DeFi, perché le altre hanno iniziato a scricchiolare ETH in primisi, ma poi anche Solana, ragazzi, ok? Quindi tutte queste cripto, come vedete, sono andate giù, quindi meno 30% anche BNB, ADA, meno 36, 37, poi XRP, quella che ha perso meno di tutti nella top 10, poi abbiamo, insieme a Luna, come vedete, che è anche lei, 26%, poi abbiamo Solana, meno 42, e addirittura DOGE, ragazzi, regge DOGE, meno 25%, regge tra virgolette, comunque è veramente importante andare a analizzare questi movimenti, anche dei meme coin come DOGE, DOGE ha avuto la fortuna di avere la notizia, forse, diciamo, casualmente fatta ad hoc sul fatto di Tesla proprio pochi giorni prima, e quindi perde un po' di meno, comunque è stranissimo vedere queste coin che non hanno nessun progetto, che addirittura reggono meno di progetti come Solana, per esempio, ragazzi. Bene, andiamo a fare l'analisi ciclica di Bitcoin, vi mostro dove siamo e perché la settimana del 10-7 di febbraio è in questo momento quella da tenere sotto controllo, potrebbe essere la zona temporale migliore per avere, diciamo, una fase di rimbalzo. Non ci sono particolari notizie che hanno scaturito questo crash complessivo dei mercati delle cripto, ma bensì solo ed unicamente la questione legata al Nasdaq, Nasdaq 100 che ha breccato in maniera importante tutti i livelli di supporto. Mi aspettavo un flash crash, ne avevo parlato più e più volte se avesse breccato questo livello di 15.500, 15.500, detto fatto, meno 7.50 la settimana scorsa e sta iniziando anche male questa qui. Però, chi non l'aveste fatto, ragazzi, andatevi a vedere la live di venerdì, ve la metto sopra la mia testa. Perché, ragazzi? Perché quella live sta importante, vi chiarisce veramente mille questioni su dove siamo, che cosa sta succedendo. Poi c'è la questione legata al Nasdaq che, secondo me, potrebbe essere vicino a una fase di respiro del mercato, ma purtroppo non è finita qui perché ha breccato i minimi del ciclo annuale. Questo significa annuale ribassista, anche per l'America. Allora, andiamo a vedere quello che è la questione legata a Bitcoin. Iniziamo da qui. Allora, ragazzi, questo, anzi, facciamo così, ragazzi, iniziamo dal nostro classico grafico di analisi ciclica. Vedete anche la struttura, tre cicli sottostanti, e poi, in particolar modo, qui, ragazzi, questo è settato verso fine mese di febbraio, ma la mia idea generale è che si vada a 200 giorni di semestrale. In questo caso, dall'inizio di questo ciclo annuale, che è iniziato il 20 luglio, per quanto riguarda Bitcoin, almeno a mio avviso, anche c'è quel problemino, diciamo, sui cicli precedenti. La questione è che il mensile in questione io lo do per iniziato lo scorso 10 di gennaio, e perciò è un mensile ribassista. Questo significa che fino alla close di questo ciclo mensile in atto non c'è possibilità di vedere una inversione di trend, non una ripresa, ragazzi, bensì una inversione di trend. Ecco perché andiamo alla questione legata alla fine, intorno, diciamo, alla settimana, intorno al 7 febbraio, quindi 5-7 febbraio. Perché? Perché se noi stiamo attendendo quella che è una cosiddetta inversione di trend, quindi non semplicemente il rimbalzo che abbiamo visto o una cosa del genere, che ci può stare, ma bensì proprio un'inversione, ragazzi, una cosa del genere, per vedere questo tipo di atteggiamento, quasi sicuramente, necessitiamo di chiudere prima il ciclo mensile e concomitante anche il ciclo semestrale del mercato. In questo caso, tutti quelli che sono i cicli mensili dalla mese di... Questo era 27 ottobre, mercato al ribasso, vi faccio vedere nel famoso 16 di novembre, quella zona famosissima che ha dato il via a tutto quel macello, se vi ricordate, da lì in poi non siamo più riusciti a recuperare. Quindi ho il ciclo chiuso il 19, alcune crypto l'hanno chiuso un po' più in là, intorno al 26-27 di novembre, e poi l'altro mensile che ha chiuso il 17, quindi qui si può fare, diciamo, una media, e ragazzi non si vedevano nemmeno, ve lo dico francamente, e infatti non abbiamo avuto tanta chiarezza nei cicli mensili, quindi qui abbiamo un 23-28, o comunque giù di lì la stessa cosa, io infatti avevo segnato un ciclo unico a 50, quindi due mensili insieme, entrambi ribassisti, quindi è dal 27 di ottobre che non abbiamo un mensile al rialzo. Allora, questa cosa qui porta la chiusura di questa struttura ciclica intorno a questa data, prima settimana di febbraio, ma probabilmente assisteremo, o potremmo assistere ad un rimbalzo nei prossimi giorni, proprio in concomitanza all'inizio di una nuova fase, che dovrebbe essere un ciclo settimanale, bisettimanale, ragazzi, quindi due settimane che vanno proprio a chiudere questo ciclo mensile, e quindi faranno una specie di rimbalzo, quindi è possibile anche che il ciclo mensile in questione vada a chiudere la prima settimana di febbraio, addirittura con un doppio minimo, ancora è possibile una cosa del genere, però ragazzi, capite bene come è difficile in questo momento andare a indicare dei livelli di supporto che possono tenere, perché c'è un flash crash immediato. Vi faccio vedere quelli che sono importantissimi per Bitcoin, vediamo anche quelli di ETH, però ogni singola coin ha dei livelli di supporto estremamente rilevanti, ragazzi, quindi io qualcosina la andrò a condividere su Telegram e Twitter, magari appena posso, ragazzi, quindi iscrivetevi ai canali Telegram e Twitter che sono free e sul Twitter in particolar modo condivido anche tante cose ultimamente e parliamo anche in botte e risposta e poi ovviamente in Academy faremo le super super analisi su tutte le coin, eccetera. Poi sul canale YouTube porterò comunque qualche contenuto interessante, però non possiamo fare analisi ogni video, ragazzi, è impossibile farlo qui su YouTube. Allora, vi faccio vedere quella che è la questione dei supporti di BTC che sono stati raggiunti oggi in zona questo minimo, proprio in questa parte qui, che era un supporto non estremamente rilevante, ragazzi, è un supporto standard perché è una fase di equilibrio del prezzo prima della partenza del nuovo ciclo annuale. Il vero supporto è il minimo del ciclo annuale. Minimo del ciclo annuale che se venisse rotto in concomitanza con la chiusura di questa struttura ciclica semestrale di Bitcoin sarebbe, a mio avviso, la cosa peggiore possibile e comunque indicherebbe il bear market in maniera definitiva. Già abbiamo visto, ragazzi, che sostanzialmente è difficile, molto difficile, che Bitcoin anche in una fase di rimbalzo possa, nell'annuale in questione, quello di luglio 2021, che è iniziato a luglio 2021, possa provare a fare nuovi massimi. Magari potrà rimbalzare, ragazzi, ma nuovi massimi la vedo estremamente difficile anche a causa del break di Nasdaq. Quindi diciamo che il ciclo dell'albing si sta ripetendo secondo la sua naturale evoluzione, quindi con l'ultimo ciclo annuale tendenzialmente laterale ribassista, come stiamo vedendo in questi momenti estremamente concitati. Allora, il livello che vi dicevo appunto, allora, possibile rimbalzo da questi prezzi per un inizio della seconda fase di questo mensile, quindi il bisettio anale, per poi chiuderlo probabilmente intorno a questi giorni qui. Questa è la struttura ciclica di Bitcoin, i livelli di supporto sono 32,5 e poi 28. Al di sotto di qui c'è solo rumore, non sono veri i supporti se proprio volessimo indicarne uno e questo qui intorno ai 31 e 2. Quindi questa zona è a, diciamo, livello di supporto. Da un punto di vista anche dei miei indicatori di analisi di volatilità che condivido in Academy e che seguiamo per delle strategie di trading, siamo arrivati al target della candela rossa per il mese di gennaio. In questo caso significa che se Bitcoin volesse provare a rimbalzare sarebbe del tutto normale. Invece, ragazzi, un break di questi livelli che vi ho indicato sono pericolosissimi perché lasciano poi spazio appunto a Bitcoin di perdere un altro 10% e la cosa si metterebbe definitivamente molto male da questo punto di vista, secondo me, perché il panic selling poi sarebbe dietro l'angolo. Andiamo a vedere poi quello che è la questione legata a ETH, ragazzi. ETH dimostra la stessa identica struttura ciclica di Bitcoin e più alto il grafico di ETH rispetto a quello di Bitcoin per quanto riguarda la distanza dal minimo dell'annuale che è 1700 per quanto riguarda ETH. Ci sono però altri livelli di supporto anche qui, livelli non particolarmente rilevanti ma solo di oscillazione e insomma, ragazzi, e poi se volessimo utilizzare altri tipi di supporti come quelli dati per esempio dai ritracciamenti di Fibonacci nell'annuale in questione vediamo che in realtà non ce ne sono più. Cioè, da un punto di vista di anche di Fibonacci il mercato ha praticamente breccato anche l'ultimo livello che era questo qui, lo 0,76 classico di Fibonacci che era 2004. Quindi, non ho... cioè, c'è rimbalzato ieri quindi ancora in realtà la close del giorno non l'ha fatta, ragazzi, però sembrerebbe voler breccare. Quindi anche ETH in profondo rosso fa cicli intorno ai 55-60. Qui siamo a 67, ragazzi, come vedete, è un po' lunghetta questa fase perché probabilmente probabilmente stiamo assistendo anche in questa fase a una chiusura della struttura semestrale proprio del ciclo di ETH. Quindi anche qui, ragazzi, non ci sono... C'è un flash crash come vedete proprio ad ascensore ribassista solitamente durano il tempo di fare il minimo e poi c'è la fase di consolidamento. i mercati non salgono e scendono ad ascensore per sempre. Ragazzi, ricordatevi che queste fasi sono veloci, impulsive e drammatiche ma non durature. Cioè non sono lunghe, cioè non scendono mai così i mercati per tanto tanto tempo. Questo è una cosa importante da andare a comprendere. Io penso che siamo in dirittura d'arrivo con la chiusura del ciclo semestrale. ETH è più lontano dai minimi quindi può ancora recuperare. Magari è difficile andare sopra i massimi precedenti però può recuperare magari una buona fetta. Andiamo a vedere invece quelli che sono gli indicatori che abbiamo visto in pratica dall'inizio di tutta questa fase ribassista e cioè la Total Market Cap della DeFi che vi condivido da inizio anno e vi dico essere uno degli indicatori più importanti di tutti. Oddio ho preso un ASTAC ok infatti dicevo dove è il grafico ecco qui ragazzi scusate allora Total Market Cap della DeFi ha poggiato sulla secondo dopo aver breccato il primo livello di supporto di cui abbiamo parlato intensamente da inizio anno ha breccato anche cioè ci si è poggiata nella settimana scorsa sul livello di 118 come vedete non è riuscito a breccarla ha recuperato in close proprio ieri ma questa settimana è iniziata in rosso e sta tentando il nuovo break anche in questo caso ragazzi manca la fine della settimana per vedere questo break ma come vi spiegavo già in quella famosa live andatevele a vedere la coin della DeFi poi fanno meno 50 all'interno di una settimana quindi non è possibile usare questi grafici per fare operazioni ma è possibile utilizzarli per capire da un punto di vista di macro periodo di lungo periodo medio lungo direi non proprio lungo dove siamo e quali sono i problemi che si stanno innescando anche nel settore della DeFi prima ragazzi prima che avvengano infatti qui se vedete questa situazione quando io vi ho indicato un break all'interno tutte le coin della DeFi hanno mollato in primis terra anche ovviamente proprio perché era una questione legata a un livello tecnico molto rilevante ancora come vedete siamo lontanissimi dai minimi del ciclo annuale in close quindi questa zona di 62 però ragazzi qual è la questione questo è una semestrale di questa fase poi ci sono alcune coni che sono messe meglio di altre però l'annuale chiuderà probabilmente in questa zona quindi intorno sostanzialmente a giugno settembre quella fascia lì poi dovremmo stare attenti insomma lì in quella fase ma di questo ne parleremo nel canale ragazzi quindi ovviamente registratevi iscrivetevi al canale per seguire queste fasi concitate e poi da qui in poi dovremmo assistere a un recupero però ragazzi queste due medie dovrebbero fungere a quel punto da livello di resistenza e quindi potremmo assistere a una semplice fase in questo modo e la cosa non mi piacerebbe per niente da vedere allora anche qui lo spazio è molto ampio questo livello è fondamentale ma siamo molto lontani certo è ragazzi che come vedete che spazio che c'è qui ha altri livelli di supporto per la zona DeFi e questa zona 81 ma crashato questo livello di supporto in pratica non ci sono più supporti rilevanti tranne questi due che sono leggerini ok il mercato si potrebbe però accasciare su uno di questi e poi tentare una fase di recupero proprio in prossimità del nuovo semestrale che dovrebbe venire ormai in una finestra temporale di una decina di giorni due settimane circa va bene detto questo andiamo a vedere la questione invece legata alla Nasdaq che continua questa fase ve l'ho mostrato all'inizio ve l'ho rimosto per concludere il video la questione è legata al fatto che se abbiamo fatto bene i calcoli se quello che stiamo guardando è corretto da un punto di vista di analisi ciclica Nasdaq 100 ha breccato i minimi del ciclo annuale iniziato a ottobre probabilmente allora qui c'è da dire che un po' dobbiamo starci attenti ragazzi perché ovviamente insomma un break di questo tipo potrebbe essere poi negativissimo in quanto potrebbe portare il mercato americano a scendere fino alla chiusura definitiva di questa fase che dovrebbe essere in linea con la zona di giugno settembre anche qui del 2022 se dovesse essere confermata questa view purtroppo ragazzi questa indicherebbe la fase ciclica che al di là dei eventuali rimbalzi poi dovremmo avere una struttura di questo tipo anche sul Nasdaq quindi conclusione di tutta questa fase che poi porterebbe a un mega a una mega fase in generale di mille e oltre 300 giorni ragazzi che sono tutti questi queste fasi come vedete qui del ciclo iniziato dal minimo del 2018 e che poi ha portato in questa fase al minimo anche della zona pandemia vedete quindi tutti gli annuali di Nasdaq e dovrebbe concludere tutta questa fase quindi allora detto questo ragazzi queste sono le fasi queste sono le strutture macro dei mercati e vi faccio vedere anche la Dominance perché la Dominance è interessante da andare a vedere proprio perché ci dà quella indicazione che vi dicevo sulla fase di eventuale di rimbalzo diciamo ciclico anche anzi ve la faccio vedere sugli altri grafici perché la Dominance preferisco vederla sulla ecco qui intanto state vedendo Fetix tutte le mie analisi ragazzi su eventuali coin che possono essere peggiorative diciamo rispetto a quelle che abbiamo visto rispetto a Bitcoin e le altre allora eccola qui la struttura della Dominance e l'idea che appunto iniziasse una nuova fase di rimbalzo così come sta avvenendo come vedete ancora una volta la Dominance non è fortissima di Bitcoin questo sancisce anche un cambio passo nel settore cripto secondo me molto rilevante da valutare cioè il fatto che probabilmente il settore cripto nel settore cripto Bitcoin sta perdendo la sua idea di criptovaluta principale e questo lo vediamo proprio dal fatto che in una fase iniziale di crash Bitcoin non ha recuperato in maniera consistente è vero che sta iniziando la sua fase ciclica probabilmente ha chiuso l'annuale proprio sulla candela del 10 gennaio questo annuale ribassista della Dominance di Bitcoin e da qui in poi fatto anche così ragazzi è abbastanza visibile quindi semestrale e poi finale vedete in barra spesso fanno così i mercati e le cripto quindi da qui dovrebbe iniziare una nuova fase allora questa nuova fase io penso possa avere anche le caratteristiche nella sua fase acuta di andare a testare quanto meno questi livelli qui cioè i livelli di 47-50 di Dominance per quanto riguarda Bitcoin dovessimo assistere ad una cosa del genere capite bene che sarebbe indicativo di una fase di rimbalzo iniziale questo probabilmente del semestrale e poi una fase finale di crash notevole probabilmente delle top 10 a discapito di Bitcoin che in quel caso sarebbe più tranquillo però ragazzi in una situazione del genere una Dominance che recupera come dico già da un po' è pericolosa perché una cosa era una Dominance che recuperava su una fase di dump del mercato una cosa è una Dominance che invece recupera in una fase di dump del mercato dove evidenzia pericolosità proprio con il cartellone gigantesco così con la scritta dangerous 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 perché potrebbe indicare che le altcoin se la vedrebbero malissimo tra qualche mese un mesetto due questa cosa è da attenzionare va bene la terremo sotto stretto controllo io penso che continuerà la fase di rotazione dei capitani nel mercato sui progetti validi che sono già attuali i layer di ETH i DEX e quelle che sono le questioni della DeFi in generale ma anche anche poi quelli che sono i progetti validi NFT e gaming sul gaming io ho una serie di dubbi da certi punti di vista tant'è vero che quelle cripto lì sono entrate nelle mie cripto short ormai da più di un mese perché erano salite troppo però hanno già stornato tantissimo quindi potrebbero anche essere diciamo delle cripto che magari si mantengono e si verifica questa rotazione di capitale anche su quel settore va bene ragazzi allora quali sono le vostre idee invece quali sono le vostre riflessioni se me le condividete nel video in questione noi ci ragioniamo e magari ci facciamo anche un video sopra e soprattutto troviamo un po' la quadra insieme mille cervelli sono meglio di uno va bene per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao